sportivi benvenuti allo stadio Giovanni Paolo II dove fra pochi istanti assisteremo al match tra Virtus Francavilla e Catania gara valevole per la ventunesima giornata del girone C della Serie C 2019-2020 interamente trasmessa sul Serie C TV il che mette giù il pallone vede Perez lo serve Perez dentro l'area di rigore il cross in mezzo e poi l'intervento provvidenziale di Silvestri che anzi di Esposito che serve il adesso Albertini crossa in mezzo poi Perez si gira il tiro con una deviazione sul pallone la battuta e poi la parata provvidenziale di Furlan palla all'indietro il cross di Rizzo poi il pallone resta lì e la parata incredibile di Poluzzi orizzontale ancora per Rizzo che prova il pallone per Barisic che si gira il tiro murato e poi in scivolata si addormente perde palla sull'attacco di Mastropietro va il numero 11 al tiro palla alta comunque buona la risposta della Virtus Francavilla spesso e volentieri viene saltato il centrocampo intanto Barisic prova il destro la palla fuori altra grande grandissimo per Vasquez che lascia Mastropietro il pallone per Perez dentro l'area di rigore Perez cerca lo spazio con il tiro l'effettua e poi si ritrova fra le braccia il pallone Furlan che prova ad accelerare il tocco dentro l'area di rigore cade a terra del vino ma l'arbitro facendo di proseguire Barisic stende ancora il Catania cross in mezzo lo stacco di testa di Di Piazza palla alta sopra la traversa per Vasquez pensa al tiro le finte Vasquez Vacozza occasionissima per la Virtus Francavilla il tiro a giro intanto Albertini dentro l'area il cross intercettato da Furlan si accende adesso il match con l'intervento regolare di Perez che ancora dentro l'area Furlan ancora Perez con la palla che fa la barba al palo che occasione poi il tentativo ancora di Albertini si gira Mastropietro in due tempi su Pinto al cross in mezzo il colpo di testa di Di Piazza cross in mezzo lo stacco di testa di Cosmo cerca lo spazio per il cross poi Albertini palla in mezzo Perez cade a terra si continua a giocare l'arbitro fa ampi cenni ho visto tutto cade a terra pinto ma si continua a giocare con Curiale che sbaglia il tocco proprio Marozzi pensa al tiro lo effettua mentre è rimasto a terra il numero 20 pinto arriva adesso il triplice fischio finisce 0 a 0 il match tra Virtus Francavilla e Catania un tempo per parte una traversa colpita da l'occasione più ghiotta nel corso del secondo tempo di fatto l'idea tutto lo serve Grazie a tutti.